Piano dato Gesù Cristo, benvenuti fratelli e sorelle in questo messaggio di nostro Signore Gesù Cristo a Valeria Copponi del 28 giugno 2023. Richiamiamo in noi lo Spirito Santo perché possa venire a leggere in noi e donarci una breve riflessione e spiegazione di questo messaggio. Io sono il Signore, Dio tuo, non avrai alcun Dio al di fuori di me. In questi ultimi tempi sulla vostra terra vi fa moltissima confusione, ma non capite che da sempre vi ho suggerito che non avrai alcun Dio al di fuori di me. Un Dio in tre persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Il Padre è da sempre colui che ha fatto dal nulla tutte le cose. Il Figlio ha dato la sua vita per la vostra salvezza e lo Spirito Santo è con ognuno di voi da sempre. I vostri tempi terreni vanno accorciandosi, sempre di più è il Padre che nei cieli concluderà la vostra vita terrena per dare ad ognuno di voi ciò che merita. Il premio o la pena eterna. Convertitevi, figli miei, prima che sia troppo tardi. Le mie chiese vanno svuotandosi e i miei figli sacerdoti pregano e soffrono per tutto ciò pensando di sbagliare nel parlare ai miei figli di Dio unico e terreno. Figlioli miei, pentitevi dei vostri comportamenti non proprio giusti e chiedete perdono al Padre mio fino a chi siete in tempo. La Madre mia è sempre con voi e vi custodisce essendo la migliore di tutte le madri. Gesù è il vostro Salvatore. Gesù ci parla della fine dei tempi. Che cos'è la fine dei tempi? E' l'ultimo tempo, quello descritto nell'Apocalisse, dove sorgerà e già c'è l'ultimo anticristo, il più pericoloso di tutti, insieme a tanti falsi profeti e insieme a nazioni che hanno arsenali, con cui distruggere il mondo in pochi secondi. Il mondo non sarà distrutto dall'autogiustizia umana, ma sarà rinnovato dalla giustizia divina. La giustizia divina sono le forze della natura, esterne e interne alla terra, che il Padre userà per ripulire il mondo dalla nostra tecnologia, per ripulire i mari e i cieli e la natura dalla plastica e da qualsiasi tipo di inquinamento. E poi gli angeli ricostruiranno, lì dove è stato programmato, quelle città dove abiteranno gli eletti per lodare il Signore in Eterno. E quindi ci troviamo nell'ultimo tempo, fatto da guerre apocalittiche, dove attraverso le guerre, attraverso coloro che governano il mondo, si instaurerà questo governo unico, con una religione unica e con una moneta unica, che durerà un poco. Ma nel frattempo gli eletti, il popolo di Dio, saranno approvati e una parte sarà preservato e protetto per abitare nei cieli nuovi e nella terra nuova, un'altra parte verrà prelevato per andare direttamente in cielo e non passerà dalla morte fisica.